Musica Erano 4.000 adolescenti, animatori, sacerdoti e organizzatori che ieri hanno animato la cinquantesima edizione del Meeting Adolescenti. Il Vescovo ha portato a tutti i saluti del Papa. Il 1 ottobre l'Arena si illuminerà di rosa nell'ambito delle iniziative di prevenzione del tumore al seno, associazione e istituzioni in campo per la salute delle donne. Sabato prossimo si terrà la giornata nazionale del Labio, associazione che supporta i bambini in ospedale grazie a volontari formati a Verona, strano anche in piazza Bra. Un cordiale saluto a voi gentili amici e bentrovati a questa edizione del nostro telegiornale. Apriamo parlando del cinquantesimo Meeting degli Adolescenti. Erano in 4.000 circa per questa edizione, nel corso della quale il Vescovo ha portato a tutti i saluti del Papa. Si è rinnovato alla Pala GSM AIM di Verona il tradizionale incontro della Chiesa Giovane della Diocesi Scaligera, il Meeting Adolescenti che ha compiuto ben 50 anni di vita. Ancora una volta è stata l'occasione per rilanciare valori alti, l'idea di un Dio e quindi di una Chiesa che ama tutti in modo incondizionato e che sui giovani, sugli adolescenti scommette. La giornata si è aperta di prima mattina con l'accoglienza, quindi la consueta provocazione fatta di testimonianze, di giochi, di messaggi importanti. Poi il saluto del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, quindi il saluto del Vescovo Domenico al suo primo Meeting Ado, che ai giovani ha voluto riportare il saluto e l'augurio del Papa, sentito proprio ieri mattina dopo la sua visita a Marsiglia. Che stamattina, appena tornato da Marsiglia, ho avuto modo di sentire il Papa, Francesco, visto che è stato chiamato in causa. E gli ho detto che sarei venuto qui e che sarei stato al Meeting degli Adolescenti e gli ho detto che cosa vuole che possa dire loro, se permette, e lui mi ha risposto, di loro che facciano chiasso. Ecco. E poi ha aggiunto, perché oggi, sapete, è la giornata mondiale del migrante e del rifugiato, ha detto di alle ragazze e ai ragazzi che questo è un problema epocale che va affrontato non rispedendoli, cacciandoli, ma va affrontato con grande rigore, facendo in modo che si scelga quelli che possano essere accolti, ma soprattutto non devono essere rispediti nei lager, da dove proviene tutta questa povera gente. Questo mi ha detto e questo io vi ho riferito. Un saluto e naturalmente un augurio da parte sua. Momento centrale dell'incontro di ieri, la Santa Messa presieduta dal Vescovo e concelebrata da tanti sacerdoti diocesani. Un'occasione per sottolineare il tema del Meeting, guardami, che ha portato i ragazzi a riflettere sullo sguardo che può essere giudicante oppure salvifico se frutto di un amore. Al termine le parole di Don Matteo Malosto. Il Meeting compie 50 anni. Abbiamo voluto qua chi ha fatto la storia un po' del Meeting degli anni passati e poi dal punto di vista della storia l'ultimo ringraziamento è per coloro che realmente il Meeting l'hanno reso possibile. Da 50 anni a questa parte siete voi, perché senza di voi il Meeting non ci sarebbe. Il prossimo primo di ottobre l'Arena si illuminerà di rosa. Tutto questo nell'ambito delle iniziative per la prevenzione del tumore al seno. Associazioni e istituzioni scendono in campo, sono già in campo, per la salute delle donne. Sono state presentate questa mattina le iniziative di sensibilizzazione dell'ottobre rosa per la prevenzione del tumore al seno, il cancro più diffuso al mondo. Attorno al tavolo tante associazioni impegnate per la salute delle donne e un appuntamento il primo ottobre, quando l'Arena si accenderà di rosa. Già dalle 14 volontari sensibilizzeranno la cittadinanza. Alle 18.30 sulle scalinate di Palazzo Barbieri si terrà un incontro informativo per tutti. È fondamentale la prevenzione, su questo non c'è dubbio. È su questo che insistiamo, perché evidentemente prevenire è decisamente meglio che curare. Ne approfitto per sottolineare un aspetto nella prevenzione che è meno noto. Adesso sappiamo tutti che lo screening oncologico mammografico va dai 50 ai 74 anni. È prevista anche la possibilità, e questo è meno noto appunto, di fare la mammografia su impegnativa del medico, quindi in esenzione di ticket, anche per le donne dai 45 ai 50 anni, che abbiano fattori di rischio. Impegnate sul campo varie associazioni, Andos, Donne Operate al Seno, Fondazione AERC, La Cura Sono Io, Lilt e Fondazione Umberto Veronesi. Sono una su otto le donne che si ammalano di tumore al seno ogni anno in Italia, 55.700. La prospettiva di guarigione è altissima se si fa prevenzione e se si interviene nei primi stadi della malattia. Una donna deve innanzitutto delire i programmi di screening, che vanno dai 50 ai 69, ma adesso si stanno allargando dai 45 ai 74. Ma non solo questo, dovrebbe, da linee guida e anche da raccomandazione, iniziare già all'età di 40 anni a fare dei controlli, perché purtroppo noi vediamo molti cancri in donne giovani, anche sotto i 40 anni. Infatti faremo un convegno qui a Verona proprio sul tumore nella donna giovane. Dicevo, però, dei 40 anni ai 50, ogni anno, non ogni due anni. Sì, e c'è l'indicazione anche a continuare i controlli dopo i 74 anni, perché la donna adesso vive molto di più, chiaramente in rapporto alle condizioni di salute, anche all'aspettativa di vita della donna. Ricordo che giovedì alle 14, al Polo Santa Marta, in occasione della trentesima giornata mondiale dell'Alzheimer, si terrà un convegno sul tema invecchiamento e Alzheimer, la sfida per un cambiamento culturale. Per l'occasione interverranno il professor Bertin, sociologo, oltre ad altri relatori, tra cui i responsabili di istituzioni e associazioni di familiari di malati di Alzheimer. Sabato 30 settembre si terrà la giornata nazionale dell'Abbio, l'associazione che supporta i bambini in ospedale grazie a volontari formati. A Verona saranno anche in Piazza Bra. Rendere più accoglienti i reparti pediatrici, stare a fianco dei genitori con bambini malati, e intrattenere i piccoli pazienti. Questo l'impegno di Abbio, associazione per il bambino in ospedale o di V presente a Verona, che sabato 30 vivrà nelle piazze italiane. La giornata nazionale ha supporto delle proprie attività e alla ricerca di nuovi volontari. La giornata nazionale Abbio è un evento che vede veramente il meglio dei volontari e anche dei donatori, perché in tutte le piazze italiane siamo presenti con i nostri banchetti. Ehi, hai sentito la novità? Eh, ma veramente, caduto dal pero. Sabato 30 settembre, nelle principali città italiane, potrai chiedere ai volontari Abbio cosa significa prendersi cura dei bambini in ospedale e offrire un contributo in cambio di un cestino di ottime pere. La formazione dei volontari viene curata con attenzione, dovendo affiancare bambini che hanno problemi di salute a volte gravi e prolungati. A febbraio partirà un nuovo corso perché i volontari possano svolgere al meglio il loro ruolo prezioso. Il volontario Abbio deve essere una persona normale, con ottimista. La caratteristica principale deve essere questa, che ama giocare, ama i bambini ed è disponibile a mettersi alla prova perché i bambini sono dei giudici implacabili e quindi se una persona non ha la capacità di accettare anche a volte delle critiche un pochino dure può rimanerci male, ecco. E quindi bisogna rispettare, ricordare e rispettare di essere a contatto con dei bambini che stanno male. Noi siamo sostenuti da tanti donatori privati che ci hanno conosciuto tramite il nostro servizio in reparto e hanno capito qual è il nostro valore come servizio per cui anche senza chiederlo ci sono vicini. Poi ci sono anche delle organizzazioni sempre private come le bielle scaligere di Verona, sono dei motociclisti che ci conoscono da anni e che lo fanno veramente in maniera col cuore, in maniera molto sensibile, quindi organizzano degli eventi a volte per sostenere le nostre attività. E a questo proposito ricordo che i banchetti del Labio sabato prossimo saranno in Piazza Braia, a Cagliero, Opeano, Villa Franca e a San Bonifacio. Parliamo adesso di un'iniziativa del Centro di Spiritualità San Fidenzio della Diocesi di Verona, un'iniziativa proposta per il prossimo 15 di ottobre. Si tratta di un percorso per vivere la preghiera in modo diverso e più dinamico grazie alla danza. La danza come linguaggio dello spirito. E questa è la proposta che la Diocesi di Verona fa a partire dal pomeriggio di domenica 15 ottobre all'ermo del Centro di Spiritualità di San Fidenzio, un percorso che permette di vivere la preghiera come dimensione completa del nostro corpo. Il Corso di Spiritualità in Danza è un percorso in realtà che permette alle persone di entrare in una dinamica di adorazione, di preghiera, quindi davanti al Signore attraverso tutto se stessi, quindi anche con il proprio corpo, con la propria sensibilità, con tutto quello che si è, imparare a stare davanti al Signore nel silenzio di quello che si può avvertire alla sua presenza, aprendo altri canali, oltre alla parola e oltre alla ragione anche, canali che riguardano la sensibilità, il corpo, anche il movimento, quindi la nostra capacità di interagire con l'altro, tutte le dinamiche di relazione con gli altri che appunto sono dirette anche a Dio. Una proposta che a partire da ottobre, per finire poi a maggio, porterà mensilmente i partecipanti a toccare diversi temi, dal corpo come profezia di vita alla comunicazione spirituale del corpo, alla preghiera del gesto. Non si apprenderà un genere nuovo di danza, ma si userà la danza per vivere un percorso di ascolto della parola di Dio in modo dinamico. Questo percorso sarà strutturato in una serie di dinamiche che verranno proposte, sì come esperienze, ma anche come un percorso formativo, quindi verranno fornite anche delle indicazioni, delle direttive, delle dispense, anche del materiale che si può riutilizzare anche nei gruppi, per esempio per catechisti con i loro bambini o di insegnanti nelle loro classi. Ecco, dinamiche che possano guidare i giovani, i bambini, i ragazzi ad ascoltare la presenza interiore del Signore insieme in una modalità comunionale secondo delle dinamiche collettive. Ieri al settembre dell'Accademia si è tenuto un concerto che ha conquistato il pubblico in sala con una intensa interpretazione del pianista veronese Alberto Nosè. Il talento brillante del pianista Alberto Nosè ha conquistato il pubblico del Teatro Filarmonico per la serata del settembre dell'Accademia. Il repertorio classico si è succeduto in un concerto con una grande interpretazione musicale, a partire da Schumann, con tema e variazioni sul nome Abeg Opera 1, per esplorare poi altri autori, intermezzo in la bemolle maggiore e improvvisazione numero 15, in do minore di Poulenc, brani musicali di Weissenberg, la valse di Ravel, Fantasia in si minore opera 28 di Scriabin e l'intramontabile potenza espressiva di Chopin, con la Fantasia in fa minore opera 49 e la sonata per pianoforte numero 3 in si minore opera 58. Il concertista villafranchese, 44enne, Alberto Nosè, si è diplomato a Conservatorio dall'Abaco di Verona con Laura Palmieri e Virginio Pavarana. Già a 11 anni vinse il primo premio a un concorso internazionale di Salisburgo, arrivando in seguito primo, o tra i primi, a numerosi concorsi internazionali in tutto il mondo. Ha tenuto concerti a New York, Berlino, Londra, Bonn, San Paolo, per citarne alcuni, e ha inciso CD e DVD. E' tutto per questa nostra edizione del Tel Giornale. Grazie a voi, gentili amici, per l'attenzione. Buona serata. Grazie a voi, gentili amici, per l'attenzione.